Emergenza Covid allerta in Irpini a sei pazienti ricoverati al Moscati, la maggior parte sono senza vaccino. Tra le due signore ricoverate nel reparto di terapia subintensiva c'è la suora 84enne dell'Istituto Corsi Europa, positiva al virus da qualche giorno e che verserebbe in serie condizioni. In terapia subintensiva anche un'anziana di Cervinara collegata al focolaio, esploso nella scuola locale e che ora conta poco meno di 30 casi di coronavirus. Intanto isolato a casa con lievi sintomi il parroco di Arcella, novantenne, don Enrico Spiniello. Il parroco che in questo momento è affetto dal Covid nonostante avesse avuto anche la terza dose. Siamo preoccupati perché si tratta di un riferimento storico della nostra comunità, si tratta di una persona che ha dato sempre grande impegno sia nella cura delle anime che nel campo sociale. Speriamo che ben presto possa uscire fuori da questo maledetto virus e possa ritornare a celebrare la Santa Messa. Chiederò ai miei cittadini di evitare gli assembramenti durante i funerali, durante le iniziative. Credo che nelle prossime ore verificherò lo stato dell'arte e poi prenderemo ulteriori provvedimenti. Vola l'indice di positività in Irpinia, balza al 6,92%. Sono 19 i casi di Covid comunicati dall'ASL su 275 tamponi processati.